Anch'io sono sportivamente, forza ragazzi! Anche noi siamo sportivamente! Anch'io sono sportivamente! E ricordate, dal 9 al 12 maggio e l'11 maggio sera a Troia, la Corte dei Miracoli, stand espositivi, percorso enogastronomico, il pettacolo di piazza, con la presenza straordinaria di Uccio De Santis. Vi accettiamo tutti! Grazie a tutti!